buongiorno a tutti benvenuti qui nel canale di gui tartal io sono federico e oggi vi guiderò attraverso un'attività che riguarda scratch e la realtà aumentata cioè noi possiamo interagire con qualcosa che in realtà non si trova proprio qui intorno a noi e lo faremo utilizzando lo strumento della webcam per cui non perdiamo tempo vedete che dietro di me su google già ho digitato la parolina scratch per cui possiamo cliccare nel primo link e andare a cliccare poi sul pulsante crea così vedete adesso si apre l'interfaccia di scratch e noi siamo subito pronti per cominciare in questo momento non vedete la mia faccia perché a breve comparirà da un'altra parte perché quello che dobbiamo riuscire a fare è letteralmente entrare nel mondo virtuale di scratch cioè invece di andare a scegliere come sempre uno sfondo al posto dello sfondo dovrà comparire la nostra faccia dovremmo comparire noi cioè noi dovremmo entrare letteralmente nel mondo di scratch in questo modo potremmo in qualche modo interagire con lui potremmo per esempio toccarlo per questo si parla di realtà aumentata entriamo in realtà aumentando un po quella che ci circonda di solito noi per scegliere uno sfondo clicchiamo questo pulsante in basso a destra sceglie uno sfondo cerchiamo quello che ci serve di più e poi lo andiamo a selezionare in questo caso invece per comparire noi come sfondo dobbiamo utilizzare i blocchi della webcam in questo momento non si trovano qua a sinistra perché li dobbiamo aggiungere noi andando a schiacciare su aggiungi un'estensione qua in basso a sinistra alcune di queste estensioni le abbiamo già utilizzate per esempio la musica quella che ci serve oggi appunto il movimento webcam rileva il movimento con la tua webcam quindi ovviamente ne dobbiamo avere una e vedete che appena ci clicco eccomi qua son comparso dietro lo sfondo di scratch è un po come se fossimo insieme come se fossimo vicini e vedete ci sono soltanto quattro pulsanti con con la webcam il più semplice potrebbe essere adesso capire cosa significa porta trasparenza webcam a 50 se ci fate caso la mia immagine in questo momento è abbastanza trasparente perché se schiacciassi zero vi faccio vedere gli andiamo a a dire che quando clicco la bandierina verde la trasparenza è a zero vedete l'immagine non è più trasparente è molto chiara se invece mi avvicino al 100 guardate un po quasi che non mi si vede più perché l'immagine diventa appunto molto trasparente noi in questo momento la lasciamo a zero facciamo in modo che insomma mi possiate vedere bene e si vede bene anche il gattino che sta qui adesso su una parte della mia libreria gli altri pulsanti riguardano per esempio l'accensione della webcam per esempio potrei dirgli quando clicco spegniti e in questo caso vedete la mia faccia non si vede più ma possiamo anche divertirci potrei dirgli di accendersi e invertire orizzontalmente ovviamente l'immagine ok vedete che adesso si è invertita in modo orizzontale in modo simmetrico mentre normalmente dovrebbe essere così ecco l'immagine è tornata normale insomma vi potete un po divertire giocando tra queste cose cercate però magari di portare alla trasparenza a zero così vi riuscite a vedere bene quelli più importanti soprattutto quello che utilizzeremo noi oggi è il secondo vedete questo blocco riesce a in qualche modo individuare il movimento del video sullo sprite cioè il video in questo momento sono io vedete io sono un'immagine video e posso fare qualcosa sullo sprite che è il gattino cioè in questo caso lui può riuscire a vedere il movimento se io sto fermo ovviamente lui non rileva niente se mi muovo invece lui potrebbe riuscire a vedere che io mi stia muovendo e adesso vi faccio vedere come si fa a dirglielo come facciamo a far capire al gattino che lo stiamo colpendo questo è quello che dobbiamo riuscire a fare allora vogliamo questo risultato quando io tocco il gattino di scratch lui raggiunge una posizione a caso nello schermo siccome deve raggiungere una posizione a caso vuol dire che sto usando un blocco di movimento e infatti tra i blocchettini qua di movimento abbiamo proprio dove sta dove sta raggiungi una posizione a caso vedete se io vado a cliccare lui ogni volta si sposta a caso in questo schermo che in questo caso vedete è quello che si trova alle mie spalle ma non lo deve fare una volta lo deve fare finché io continuo a toccarlo quindi lo dovrebbe fare siccome non sappiamo quale sarà il massimo delle volte che lo andrò a toccare mettiamo per sempre quindi una volta che lo tocco lui per sempre si sposta a caso però vedete così non va bene perché lui si sposta a caso anche se non lo tocco quello che invece dobbiamo riuscire a dirgli è che lui si deve spostare a caso solo se lo tocco se lo tocco allora si sposta e il blocco se che sta sempre su controllo l'abbiamo usato già anche negli scorsi video un blocco fondamentale ricordato è forse uno dei più importanti se non il più importante cioè se io faccio qualcosa allora ci sarà una conseguenza alla mia azione quindi è importantissimo dirgli che lui raggiunge una posizione a caso solo se lo tocco se no non fa niente sta fermo qui a guardarmi ci guardiamo ma non facciamo altro adesso viene la parte interessante come faccio a capire come fa lui a capire che lo sto toccando non posso usare il blocco toccare che sta su sensori perché questi blocchi riguardano gli sprite le immagini tra loro ecco noi siamo un'immagine un po particolare perché siamo un'immagine reale quindi non che che parte deve toccare questa parte qui dei libri i miei capelli cioè per lui è difficile distinguere quindi la cosa più semplice che possiamo dirgli è di capire se in questa immagine in cui ci sono io qualcosa si sta muovendo e per farlo possiamo utilizzare il blocco che vi ho mostrato prima il secondo del movimento webcam eccolo qua cioè se c'è un movimento nell'immagine e magari questo movimento lo tocca vedete il movimento è sullo sprite quindi sul gattino allora lui raggiunge una posizione a caso in questo modo se lui vede un movimento si può spostare i movimenti su scratch in realtà sono dei numeri se il numero è 0 vuol dire che non c'è nessun movimento 0 0 movimenti vuol dire che sto fermo immobile se il numero è 100 vuol dire che mi sto muovendo al massimo delle mie possibilità quindi tra 0 e 100 ci sono varie possibilità per muoversi e per associare un numero a questo blocco a noi serve il blocchettino di operatore in questo caso andiamo a prendere il maggiore cioè gli diciamo che faccio vedere un esempio qui sto dicendo che se il movimento è maggiore di 90 quindi da 91 a 100 vuol dire che mi sto muovendo estremamente veloce lui raggiunge una posizione a caso guardate clicco e vedete mi sto avvicinando al gattino molto piano non sono un numero maggiore di 90 quindi in questo caso lui vedete che non si sta muovendo perché per lui il movimento è ancora troppo lento guardate che succede se io gli metto per esempio maggiore di 30 andiamo un po' se riesco ok vedete che appena lo tocco lui scompare ovviamente la webcam deve riuscire a prenderlo bene però vedete che lui adesso riesce a capire che mi sto muovendo e infatti perché il numero più piccolo quindi serve un movimento un po' più lento e lui si sposta però avete visto che si spostava anche più volte perché per farlo un po' più preciso ci conviene dirgli che dopo che si è spostato in un post a caso prima di controllare se io mi sto ancora muovendo lo facciamo attendere un secondo quindi leggiamo che succede quando clicco per sempre lui raggiunge una posizione a caso se rilevo un mio movimento abbastanza veloce diciamo così e in quel caso lui si sposta in un post a caso e aspetta un secondo prima di ripartire ricordatevi qua c'è la freccia vi fa capire che quando siamo arrivati qua giù lui ricomincia tutti i blocchi che abbiamo messo quindi vediamo un po' che succede ok vedete che adesso riusciamo a capire meglio eh riuscire a prenderlo ok vedete che adesso il gattino riesce a capire che lo sto toccando e prima di andare in un nuovo posto aspetterà un secondo così da far capire che stiamo un po' giocando a rincorrerci a prenderci possiamo anche vedere quante volte lo vado a colpire utilizzando i blocchi della variabile anche questi li abbiamo usati negli scorsi video la variabile ricordatevi è un contenitore una valigia dentro ci andiamo a mettere le volte per esempio che lo tocco andiamo a contare tutte le volte che lo tocco uso proprio questo verbo qua quindi gli dico che all'inizio quando si comincia il tocco è sempre zero io non l'ho mai toccato tutte le volte che lo tocco devo cambiare questa mia valigetta di uno vediamo quante volte riesco a toccarlo ok due eccolo qua giù su tre cinque ok e così via e possiamo anche per renderlo un po' più carino magari mettere un suono che ci fa anche capire che lo stiamo toccando che può essere un miau o qualsiasi altro suono voi vogliate vediamo lo facciamo miagolare ricomincio vedete che il tocco adesso è zero in questo modo ecco mettendo un suono e mettendo anche il punteggio riesco a capire bene quante volte lo sto toccando e non mi perdo insomma magari mi muovo troppo velocemente non mi accorgo salto una volta che l'ho toccato invece così ho tutto bene a schermo tutto quello che succede e noi per esempio potremmo anche dirgli che quando quando lo tocco cinque volte per esempio il gioco è finito e si ferma tutto vi faccio vedere per esempio un metodo per farlo andiamo a prendere un'altra bandierina verde la mettiamo qua ricordatevi lo possiamo fare basta che i blocchi che stanno qui sotto non vanno a intralciare quelli che succedono qua altrimenti il programma potrebbe andare un po' in confusione e noi gli facciamo fare questa cosa qua questa è un po' avanzata ma ve la faccio vedere ugualmente gli diciamo che per sempre ok questo dura per sempre e anche questo qua durerà per sempre allora andiamo su control e gli diciamo che se gli andiamo un pochettino mettiamo l'uguale e gli diciamo che se il mio tocco è uguale a cinque quindi vuol dire che se io lo tocco cinque volte vediamo un po' il gattino mi dirà mi hai preso hai vinto e il gioco si interrompe si ferma si ferma tutto e c'è proprio un blocco su controllo che si chiama guardatelo un po' ferma tutto vedete che il ferma tutto sotto non ci si può attaccare nulla perché vuol dire che ferma tutto quello che sta succedendo in qualsiasi parte del programma vediamo un po' lo devo toccare cinque volte non mi vede bene ok devo aspettare un secondo siamo all'ultima ok mi hai preso ha vinto mi sono scordato una I e il gioco è fermo vedete che io adesso non posso fare più niente infatti i blocchi non sono più nemmeno illuminati perché vuol dire che si sono interrotti e in questo modo ho creato un piccolo videogioco che voi ovviamente potete personalizzare cambiare aumentare il punteggio metterci più di un personaggio non solo il gattino che potete toccare e inventarvi voi il vostro gioco in cui voi siete i protagonisti perché siete qui dentro siete nello sfondo di scratch allora ho creato un'alternativa al programma di prima invece di farlo muovere a caso ho anche diminuito guardate un po' il movimento che va a rilevare invece di muoverlo a caso gli diamo una piccola spintarella per fargli fare dei passi lo facciamo muovere verso destra adesso siete voi che accompagnate un po' il gattino in questo tour virtuale della vostra camera ok vedete gli do una piccola spintarella e lui si sta muovendo guardate che cosa incredibile sembra proprio che lui si stia muovendo perché lo stia guidando io e magari avrei potuto mettere anche altri animali qui in realtà voi potreste essere in due per esempio magari avete un fratello una sorella o i vostri genitori vi potete divertire mettete per esempio qua su il gattino qua giù un cagnolino e vi mettete uno un po' più in alto uno un po' più in basso e cercate di far arrivare prima al traguardo che è la fine dello schermo insomma i vostri animali potete anche divertirvi per esempio nulla ci vieta di andare a creare qua una barra rossa da un personaggio che sia una barra che vi faccio vedere ci andiamo a creare per farvi capire che intendevo andiamo a disegnare un nuovo sprite andiamo un po' sul rosso scegliamo ok il rettangolo ok magari lo potrei stringere un pochettino e questo è il traguardo quindi il primo che arriva qua giù riesce a vincere la gara quindi in questo caso ripeto qualcuno potrebbe scegliere vediamo un po' dove sta il cagnolino eccolo qua e vi sfidate a fare una gara ma potete anche renderla più divertente per esempio il gattino quando lo toccate non solo fa 50 passi ma passa anche al costume seguente quindi l'effetto che avrà la sua camminata sarà vedete che sta anche facendo i passi e in questo modo sembra davvero che stia correndo perché oltre a muoverlo voi state anche cambiando il costume tra un passo e l'altro e quindi sembrerà davvero che il vostro gattino stia correndo è la stessa cosa ovviamente potete fare con il cagnolino perché anche lui tra i costumi vedete ha dei costumi in cui qui sembra anche che stia faticando in maniera felice per arrivare alla fine bene allora siamo giunti alla conclusione di questo video io spero che vi siate divertiti e spero che proverete voi stessi in casa con le persone che stanno intorno a voi a divertirvi con la webcam a realizzare chissà qualsiasi programma che vi venga in mente in descrizione trovate la mail di WeTartle alla quale potete mandarci i vostri screenshot i vostri programmi che noi poi pubblicheremo e vedremo un po' cosa la vostra testa riesce a immaginarsi e riesce a inventarsi io vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo al prossimo video a presto Grazie per la visione!